Ieri pomeriggio i bambini delle scuole medie che frequentano l'istituto comprensivo di Pavone Canavese e i ragazzi del liceo scientifico Gramsci di Ivrea hanno ricevuto una consegna speciale a casa. A bussare però non è stato il postino ma i carabinieri della compagnia di Ivrea con in mano un piccolo dono, strumenti informatici per lo studio a distanza forniti dai rispettivi dirigenti scolastici. L'emergenza epidemiologica ha determinato inaspettati cambiamenti anche nel settore scolastico con necessità di svolgere lezioni a distanza utilizzando la tecnologia. Nel momento in cui i dirigenti scolastici hanno recuperato dei computer portatili da assegnare ad alcuni dei propri studenti che ne erano sprovvissi si è posto il problema di come procedere a loro consegna. I carabinieri di Ivrea hanno subito confermato la loro incondizionata disponibilità e così nel pomeriggio di ieri sono stati proprio loro a ritirare i computer portatili dalla scuola e a bussare casa per casa, cercare studente per studente e consegnando nelle loro mani un importante strumento tecnologico.